. Enorme crop circle dalla geometria complessa compare in un campo di Mammendorf, Baviera. Lo spettacolare pittogramma comparso in campo di frumento a Mammendorf, vicino Monaco di Baviera, non lascia commenti e perplessità sulla sua autenticità. . I creatori dei cerchi, hanno creato questa opera darte che è abbastanza grande da occupare quasi un campo di frumento intero, infatti questa formazione possiede un diametro di oltre 200 metri ed è composta da un centinaio di mezze lune. . . Guardando la formazione dallalto e dalle pochissime immagine che sono state pubblicate su cropcircleconnector.com, riusciamo ad osservare un pittogramma tridimensionale, che assomiglia un diagramma 3D atomico o molecolare. . . Rammento che il pittogramma è stato scoperto il 24 luglio 2016. . . . Ovviamente vi terrò aggiornate sulle ultime news e di altre immagini, di questo spettacolare cropcircole. . 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 Grazie a tutti